Montepora, slalom gigante in compagnia di quanti siete? 6 ragazze delle 13 Clusone, ragazzi anche? No, solo ragazze, abbiamo solo ragazze con i caschi e non si capisce bene. Allora, partiamo con le presentazioni, ditemi un po' come è andata. Tu come ti chiami? Elena Giudici. Giudici, sei la figlia di chi sei figlio tu? Di Battista. Ah, di Battista, quindi dirigenti importanti dello ciclato. Come è andata la gara? Abbastanza bene. Abbastanza cosa vuol dire? Eh, poteva andare meglio. Va bene, questa è la sintesi. Da questa parte chi c'è? Anna Barzasi. Sì. Allora, Anna è fin qui, ci siamo, dimmi un po' le caratteristiche di questo gigante che ho visto all'inizio e bisognerò spingere tanto, no? Per forza. Sì. Come mai? Era un po' in piano e poi impegnativo o meno? Eh, no. E la gara come è andata? Male. Male, perfetto, sì, una di grandi parole. Da questa parte chi c'è? Vittoria Sartori. Sartori. Te come è andata la gara? Bene, ma non benissimo. Bene, ma non benissimo, la mia frase preferita. Da questa parte chi c'è? Sara Savoldelli. Tu sei la più grande, terza media, loro sono di seconda, quindi le guardi dall'alto al basso, giustamente. Come è andata la tua gara? E si poteva fare meglio. Questo e si poteva fare meglio, dovreste fare le t-shirt, no? E si poteva fare meglio. Cosa vuol dire? Quanto sei arrivata? Non lo so. Non lo sai ancora, va bene. Qua chi c'è? Siamo il Dalli Alessia. La gara è andata... E? Vuoi scegliere? Bene, male, benissimo, malissimo? Abbastanza... No, così così. Così così, vi abbiamo aggiunto, no? E qui l'ultima delle sei chi è? Eva Scesa. Eva? Perfetto. E la gara è andata abbastanza bene. Abbastanza bene, va bene. Però una vostra compagna è arrivata prima, quindi fra poco andremo a trovarla. Facciamo un saluto alla telecamera a tutti, salutiamo. Guarda là, ciao, ciao, ciao. Seconda classificata al termine di questo gigante al Montepora, Giorgia Manini, Ciclub3 di Ciclusone. Complimenti. Grazie mille. Mi descrivi un pochettino la gara, difficoltà, situazioni particolari. Dove sei arrivata a seconda, insomma, dove hai fatto bene in questa gara, secondo te? Allora, inizialmente in questo tracciato bisognava spingere molto bene la partenza, poi vabbè c'era il primo pezzo di piano e quindi bisognava stare a uovo. Poi penso di aver guadagnato terreno nel pezzo del dosso, appena dopo il piano, perché sono rimasta a uovo molto più tempo. Poi come tracciato non era neanche molto angolato, bisognava prendere solo un po' lo spazio e era abbastanza scorrevole come tracciato. Mentre verso la fine appunto mi sono messa a uovo per le ultime sette porte e anche lì penso di aver guadagnato un po' di terreno. Era abbastanza facile questo tracciato ed era molto bello. Ascolta un po', ma stacchiamoci un attimo dalla gara. Bello venire qui un venerdì pomeriggio con il sole a fare la pista oppure non tanto? Qual è il tuo giudizio? È un recupero questo, però voglio dire, io per esempio sto benissimo qui in un sciato. Bel tempo, bella vita. Voi che siete anche studentesse tra l'altro? Secondo me è stata una bellissima giornata perché c'è stato sempre il sole, c'è un bellissimo cielo e niente, è proprio una giornata bellissima oggi. Perfetto, mancava solo il fidanzato e poi c'era tutto, giusto? No, dico il sole, eri molto poetica. Va bene, allora grazie a questa vince. Saluta anche le amici di Facebook, saluta qui, ciao. Saluta anche le amici della TV, ciao. Ok, alla prossima. Saluta anche le amici della TV, ciao.